Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, un'altra novità di Sala Stampa Formula 1, il Tg dei motori. Appuntamento quotidiano, magari no per il momento, visto che ancora la stagione non è iniziata, ma qualche giorno durante la settimana vi aggiorneremo un po' su tutte le notizie del mondo del motore e soprattutto della Formula 1 che in questi giorni vive dei primi scatti, dei primi video che arrivano dalle fabbriche con i piloti vecchi e nuovi che provano i sedili. Stiamo cercando di spiare, di individuare i possibili novità, quello che vogliono far vedere i team, perché poi alla fine dovremo attendere le presentazioni che avverranno quasi tutte, come sempre, via internet, via streaming e la pandemia davvero sta condizionando tutta la vita delle persone del mondo e soprattutto la Formula 1 che comunque lo scorso anno era riuscita a portare in porto una stagione, quest'anno calendario di 23 gare, proprio di questi giorni la quasi ufficialità di Portimao che dopo Imola dovrebbe riempire i buchi rimasti nella stagione, nel calendario che comunque credo soffrirà sicuramente di cambi perché sappiamo la pandemia in via di risoluzione, lungo termine però purtroppo con i vaccini che sono iniziati condizionerà con eventuali nuovi sviluppi il calendario che resta con un grosso punto di domanda. Di questo e altro parleremo questa sera con Fulvio Vigilante che mi fa l'espania. Ben trovato. E oltre a queste incertezze di avere un'ufficialità sui Gran Premi che almeno all'inizio vedranno partire la stagione di oggi, la riunione a Londra della Commissione della Formula 1 che ha deliberato il freeze, la messa in ghiaccio dei motori dal 2022 fino al 2025 con Ferrari e soprattutto indicata tra quelle che dovevano essere contrarie ma tutto ciò alla fine è stato fatto per salvaguardare la Red Bull che in passato spesso e volentieri ha abbaiato, ce ne andiamo, lasciamo la Formula 1 in virtù dell'abbandono alla fine di questa stagione della Honda Red Bull gestirà con quello che resta appunto dell'installazione in Europa dei motori nipponici. Se lo farà in casa ma questo ovviamente ha suscitato negli appassionati soprattutto pareri negativi e il perché ce lo spieghi Fulvio. Eh Alessandro è un bel punto di domanda perché giustamente il congelamento dei motori significa che da qui diciamo al 2022 in poi le Power Unit non possono essere più sviluppate quindi niente più sviluppo della potenza, niente più sviluppo della tecnologia ibrida associata a questa struttura Power Unit. Quindi è un vantaggio per Red Bull perché non ha più un motorista alle spalle come Honda che aveva fatto un grande crescita un gran balzo in avanti ma soprattutto forse un diciamo un paletto per frenare Mercedes. Chi lo sa? Il loro vantaggio è ancora grande quindi non è ancora misurabile se il congelamento dei motori in questo momento riuscirà a arginare il divario tra i motoristi o meno. Sicuramente è un vantaggio in termini di costi perché abbatteranno o quantomeno metteranno una livella ai costi della Formula 1 ed è questo quello che la Formula 1 sta cercando di fare di ridurre la spesa per ogni team per avvicinare le prestazioni soprattutto le team minori quindi quelli che faticano ad arrivare ai livelli dei budget dei grandi team. Quindi vedremo, vedremo sicuramente Red Bull ha un'incognita di dover fare i motori da sé o a casa sua oppure acquisendo le fabbriche di Honda. Le indiscrizioni dicono che forse c'è una mezza idea di poter portare gli impianti in Europa però comunque sebbene che portare impianti in Europa significa comunque mobilitare una strada... Una grossa scommessa a cui il team austro-inglese dovrà dare risposta, dicevamo appunto, della contrarietà di Renault e Ferrari che poi si sono convertiti all'unanimità che ha sancito questo blocco dello sviluppo dei motori in cambio di un bilancio delle prestazioni in futuro previsto, programmato con l'idea di ridurre la portata istantanea di camburante ai team forniti da Mercedes più potenza elettrica, comunque delle soluzioni un po' pasticciate in anni dove di pasticce a livello regolamentare secondo me ce ne sono stati troppi a discapito poi dello spettacolo perché potrebbe essere più semplice e più divertente. Sì esatto, diciamo che forse bisognerebbe un attimo fare un po' di chiarezza agli regolamenti semplificarli per avere più spettacoli, semplificare significa togliere molte regole sulle regole che già esistono, cioè quindi una regola sotto una regola sotto una regola questo porta che i regolamenti sono complicati, complessi e per lo spettatore diciamo tra virgolette il passeggero, quello che non è attento a tutti i capigli è veramente complesso analizzare ogni punto. D'altro quanto anche per i team non c'è più libertà di sviluppo, non c'è più libertà di innovare, di portare cose nuove lo si è visto l'anno scorso con il Dustin Mercedes subito messo al bando per questa stagione quindi i regolamenti sviluppo tecnico da parte dovrebbero essere totalmente rivisti il mio punto di vista e questo secondo me fatto in maniera tecnica da persone che sono del mestiere in quel caso dentro forse può creare un interesse maggiore. Diciamo che un po' il caso come sta succedendo nel WEC che c'è più un'apertura verso i costruttori quindi l'ottica di avvicinare i veri costruttori della Formula 1 nel WEC si sta avvenendo quindi la Formula 1 dovrebbe guardarsi intorno ad aprire i regolamenti in maniera più semplice però a voler invogliare, a costruire la Formula 1 non a limitarle, quello è il problema. Sì, negli anni, nei decenni abbiamo visto sparire quelle marche che hanno ridotto a 10 team. Attualmente la Formula 1 difficilmente anche se è stata balinata di nuovo in questi giorni questo team di base a Monte Carlo con degli imprenditori che avrebbero intenzione di entrare ma con tutto questo cambio, complessità di regolamenti, incertezza io credo che molti siano spaventati tenendo conto anche limite dei costi sì ma dei costi necessari per entrare e come giustamente accennavi tu nel WEC con l'uniformità alla fusione dei regolamenti tra quello che è il WEC europeo e l'Insa americano tornano Audi, torna Porsche, tornano marche che hanno voglia di far bene in una categoria che potrebbe essere spettacolare. Si parla anche della possibilità di Ferrari, di McLaren è arrivata la Glickenhaus, questa simpatica scuderia americana, tutta una storia dietro il proprietario è un produttore, regista cinematografico, il papà lavora a Wall Street ma comunque c'è voglia e tra l'altro in questi giorni sui social stanno mettendo video, immagini, la macchina ha scoperto un'altra mentalità rispetto a una Formula 1 purtroppo troppo chiusa sia a livello di approccio dal punto di vista del pubblico e meno complessa hanno trovato soluzioni che hanno reso meno complessa questa categoria da qui al futuro mentre invece si sta un po' strozzando con le sue stesse mani la Formula 1 credo. Sì, si sta strozzando, scusami, perché purtroppo i regolamenti come dicevamo sono veramente tanto complessi giusto fare un caso, Pirelli finalmente quest'anno avrà circa 30 giorni per poter provare gomme totalmente nuove per l'anno prossimo. L'abbiamo parlato anche con Scalabroni l'altro giorno, cambiare tutto insieme cioè assetti, gomme, aerodinamica, telaio e anche poi il sistema frenante, tutto il pacchetto di regolamenti sarà uno stravolgimento per il 2022. Avere solo 30 giorni di tempo per provare queste gomme è poco però finalmente c'è perché Pirelli aveva chiesto i 30 giorni, la figlia aveva concesso 25 sono finalmente stati dati i 30 giorni, una piccola apertura, lo sappiamo di me, non è niente 5 giorni in più di test vuol dire proprio una sciocchezza su dei giornati test che non ci sono perché sappiamo bene che adesso i propri libri sono ridotti di mezz'ora, avremo solo un'ora l'idea delle gare sprint race forse team potrebbe utilizzare addirittura per fare dei test quello di cui si è parlato oggi nella riunione della commissione di Formula 1 un nì, comunque non una decisione ufficiale, questa ipotesi quest'anno di provare in tre gare e si parla di Montreal, Monza e Interlagos, sempre che si corra in quei circuiti questa gara sprint il sabato su 100 chilometri col punto di domanda i punti, i tempi, i punti nel campionato, quindi anche qui una grossa cosa che da una parte potrebbe cambiare totalmente la faccia della Formula 1 in futuro perché quest'anno trattasi solo di tre appuntamenti di prova, diciamo così, ma un ennesimo, credo io, pastrocchio se non per le squadre che non hanno test durante la stagione che hanno visto ridursi a solo tre giorni in Bahrain prima dell'avvio della stagione i test prestagionali e che quindi magari potrebbero sfruttare quest'anno questi 300 chilometri per fare andare le macchine che se no sarebbero costrette a girare solo nei Gran Premi Esattamente, perché purtroppo i test sono limitati, quindi provare soluzioni diverse se gli viene data un'occasione loro lo sfruttano il problema è come strutturare queste race sprint, come loro l'hanno strutturata e l'hanno chiamata qualche anno fa fu fatta una modifica con le qualifiche di voler cambiare, fu provata un disastro il problema è che la Formula 1 dovrebbe studiarle bene queste modifiche così radicali perché se questa struttura della race sprint il sabato viene messa in campo in maniera effettiva, la Formula 1 viene stravolta cioè non si parla più di Formula 1 forse chi come me è abituato ormai a vedere la domenica la gara cioè che c'è tutta una mentalità di arrivare al Gran Premio solo in giro di competizione e che c'è tutta una psicologia della Formula 1 a cui siamo stati abituati esatto solo il cambio di assetto, noi siamo anni che lo stiamo dicendo la possibilità di variare l'assetto in condizioni di asciutto o bagnato non si può cioè è paradossale in una tecnologia così evoluta è un controfeisto io veramente lo dico proprio da appassionato e poi cerco di essere anche un tecnico però veramente sono basito perché invece di andare in una direzione di portare la libertà nel senso di dare la possibilità agli ingegneri di sviluppare in maniera da poter trasferire poi quella tecnologia sul settore automotive e viene tutto quanto blindato allora anche un sistema come il Kessa che è stato sviluppato per anni al 2009 fino ad oggi si è sviluppato poco nell'ambito automotive se non soltanto su una spinta enorme dalle case costruttrici questo significa che avere tecnologie in Formula 1 bisogna anche avere di riversarle poi sull'automotive vero che i regolamenti con le non power unit che sono usciti oggi diciamo con l'idea delle power unit 2025 c'è questa chiara volontà di poter arrivare ad avere la riversibilità dei componenti sull'automotive questo è un pregio perché sappiamo tutti quanto negli anni passati, nei decenni passati ciò avveniva che c'era un trasferimento di tecnologia nel know-how nel settore stradale bene questo ma bisogna fare molto ma molto di più c'è giusto un esempio classico non c'è più il trasferimento di tecnologia delle gomme la struttura della mescola della Formula 1 difficilmente può essere portata da una gomma della mescola stradale perché la stessa costruzione di carcassa e quant'altro è totalmente diversa poi col 2022 le gomme della 18 sarà ancora un passo non dico nel buio ma quasi ci siamo non è una situazione abbastanza chiara sicuramente i team stanno studiando il regolamento 2022 ma soprattutto stanno studiando come proporsi alla FIA la Formula 1 per decidere che cosa fare col congelamento motori che scelte prendere se congelare tutta la power unit perché questo non è ancora chiaro se congelare solo la parte ibrida quindi per cercare di livellare la potenza quindi avere l'endotermico a una quota X di cavalli e avere invece lo sviluppo del libro aperto questo bisogna ancora capirlo sarebbe interessante solo che io quando sento parlare di congelamento power unit limiti e quant'altro non è più forma 1 cioè limitare lo sport come per esempio che io faccio ciclismo mettere a un ciclista il freno su una bicicletta sempre tirato non è questo più il senso dello sport della Formula 1 di per sé limitare qualcosa che non esiste quando tu cerchi di arrivare oltre i limiti mi viene in mente la pubblicità di non mi ricordo neanche che cosa che dice no limits invece si tratta di una Formula 1 too many limits troppi limiti speriamo comunque di saperne qualcosa in più prossimamente anche perché come detto si avvicina all'inizio della stagione con l'avvio in Bahrain le notizie torneranno i prossimi giorni qui nel TG di Sala Stampa F1 grazie a Fulvio per avermi fatto compagnia alla prossima grazie a Fulvio per avermi fatto